Sono 104 le strutture per anziani non conformi alla normativa su 601 controllate, pari al 17%, 61 le persone denunciate e altre 157 sanzionate per un ammontare complessivo di oltre 72 mila euro. È il bilancio dei controlli dei NAS, dei carabinieri, che a partire da febbraio, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, hanno effettuato un'azione di vigilanza presso le strutture ricettive sanitarie e socioassistenziali destinate ad ospitare persone anziane e con disabilità. In Friuli, Venezia e Giulia sono 15 le case di riposo controllate dal Nucleo per la tutela della salute di Udine, da Zoppola a Paluzza, da Mortegliano a Cervignano. Di queste una è stata chiusa, si tratta della Primula di Trieste. L'evacuazione era stata disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale e i 21 ospiti, tutti positivi al Covid-19, sono stati trasferiti nei giorni scorsi in altre tre strutture sanitarie del territorio di Trieste, idonee per la cura dell'epidemia. Nei vari centri si è trattato di controlli di carattere amministrativo sanitario per la verifica dell'adozione di protocolli di contenimento dell'emergenza e dei presidi di sicurezza. Non sono emerse particolari criticità, anche se in due casi, Mortegliano e Paluzza, ci saranno delle indagini esplorative ulteriori disposte dalla Procura di Udine.